ragazzi buongiorno nuovo video qua su youtube non potevamo non parlare di una delle novità più grandi che sono state presentate c'era nell'aria che poteva uscire un nuovo modello della ducati desert x e sbam world premiere e ducati presenta la nuova desert x rally perché ha comprato la standard poco tempo fa come sottoscritto un poco piacevole allora andiamo a vedere cosa hanno messo su questo ducati desert x rally ma partiamo subito dalla cosa importante ovvero il prezzo perché ragazzi 22.500 euro ma aspettate prima di giudicare andiamo a vedere cosa c'è stato montato quali sono stati gli upgrade che hanno fatto dalla non so neanche se chiamare la mia standard o base eccetera ma una cosa molto interessante che ducati ha alzato il prezzo anche della standard quindi adesso per prendervi la standard ci vogliono 17.399 euro io mi ricordo che all'inizio se non vado se non sbaglio ragazzi poi correggetemi costava 15.900 poi quando l'ho presa io è passata a 16.500 adesso costa 17.400 insomma una bella escalation per questa desert x base e quindi 22.500 il prezzo della rally andiamo a vedere però cos'è cambiato quali sono gli upgrade che hanno fatto a questo modello partendo dalla desert x abbiamo lavorato sulle caratteristiche essenziali per cui i motociclisti che cercano fuoristrada impegnativi rally ride e competizioni da qui una moto con componentistica top di gamma sviluppata e testata anche nei campi di gara con uno stile e un'identità unici allora prima di tutto vedete le grafiche le grafiche sono uguali identiche alle mie non perché io mi sono inventato niente ma perché avevo preso spunto ovviamente dalla moto di antoine meo che ha vinto all'herzberg rodeo quella è stata la gara che praticamente ha fatto un po da contorno alla nascita della ducati desert x rally no quindi grafiche vedete io poi le ho modificate per esempio ho dato questo effetto alla scritta ducati ho cambiato il rosso però bene o male lo schema della grafica è lo stesso di quella di antoine meo il telaietto rosso tutta questa grafica andiamo a ritrovarla sulla desert x rally ma andiamo alla sostanza cosa è cambiato in realtà parliamo di tutti upgrade fatti esclusivamente per l'utilizzo in fuoristrada ragazzi se dovete usare la desert x su strada o per viaggi in coppia io personalmente non andrei a puntare sulla desert x rally perché perché le novità più importanti sono sicuramente sulla ciclistica quindi è stato cambiato l'amortizzatore posteriore pistone a 46 mm maggiorato aveva un escursione di un centimetro in più di dieci millimetri in più una delle cose più importanti è sicuramente quello che hanno fatto alla forcella qui diamo una forcella standard da 46 mm mentre sulla desert x rally è stata montata una kayaba da 48 cartuccia chiusa con delle piastre di sterzo ricavate dal pieno l'ammortizzatore di sterzo sarà un ammortizzatore sterzolins con piastra vabbè tutto un lavoro ragazzi hanno fatto veramente un lavoro di fino e quindi diciamo che hanno aumentato anche da 230 mm di escursione all'anteriore della standard a 250 quindi 20 mm in più ovviamente poi la kayaba da 48 con trattamento cascino per i foderi e il trattamento dlc per gli steli diamond like carbon quindi abbiamo gli steli con un effetto praticamente nero che favorisce lo scorrimento e tutto quello che concerne il lavoro della forcella nell'uso gravoso quindi nell'uso in fuoristrada no e di conseguenza aumentata anche la luce a terra la luce a terra adesso è di 280 mm quindi maggiorata rispetto al modello standard un'altra cosa un'altra un altro upgrade che io farei sulla mia moto sono sicuramente i cerchi e i cerchi attuali della desert x sono dei cerchi con raggi tangenziali quindi vedete come sono fatti e vedete molto esposti a rotture a piegamenti perché vedete come è fatto il cerchio vedete anche qua che io nonostante il poco utilizzo le ho già segnati abbastanza la desert x rally monta il top che si può montare quindi cerchi takasako xl il top che c'è in assoluto con addirittura i mozzi ricavati al pieno cioè sono cerchi veramente top di gamma per chi vuole far fuoristrada soprattutto sulle max adventure non c'è cosa migliore che si può montare ad oggi su un moto del genere altra cosa che cambia dalla ducati desert x base è il parafango basso quindi non abbiamo più il parafango basso tra l'altro vediamo che anche per come fatto il parafango basso della desert x base e lo stelo è molto esposto a pietre a qualsiasi cosa quando si fu fuori strada non molto bene e quindi adozione parafango alto parafango alto nero tra l'altro lo vedete nei video che stanno andando in sovraimpressione praticamente è un parafango sicuramente molto funzionale perché se facciamo fuori strada ben del fango eccetera non abbiamo il parafango basso che ci può struire la rotazione della gomma a mio avviso parere estetico un po troppo grosso per quella che è la moto andrei a cambiarlo con qualcosa di un po più piccolino perché diciamo che a prima vista non è che mi fan pazzire però discorso puramente personale quello che cambia anche sulla ducati desert x rally è il paramotore quindi vedete che questo qua io ho montato un fantastico paramotore della sv motec che gli da una linea veramente pazzesca questa moto super super resistente e desert x rally monterà un paramotore in fibra di carbonio quindi tanta roba abbiamo anche il pedalino del freno e del cambio ricavati dal pieno quindi diciamo che di modifiche interessanti ce ne sono altra cosa interessante monterà di serie la sella rally quella che monto io sulla mia e altra cosa che sinceramente non so perché non hanno fatto prima ci sono kit adesivi di calcomanie su tutto quanto il serbatoio molto spesso per andare a proteggere quello che è questo serbatoio e quindi diciamo che al posto di essere così nature per far fuori strada è sicuramente meglio proteggerlo quindi con un kit di grafiche apposito e fatto decentemente una cosa che sicuramente poten cambiare erano gli specchietti hanno lasciato su quegli specchietti di serie che veramente sono penosi i paramani vabbè io ho montato questi paramani in alluminio quindi ci vorrebbero dei bei paramani in alluminio belli tosti sinceramente sinceramente per quel prezzo mi aspettavo uno scarico è vero che sono 22.500 se avessero messo il termignoni sarebbero stati 25 però andando a prendere un'edizione così particolare racing mi aspettavo uno scarichetto così prendevo la moto era finita comunque di interventi ce ne sono parecchi spero di non essermi dimenticato niente da possessore della standard ovviamente ci sto ci sto ragionando ci sono ma lo vediamo nel prossimo video che seguirà tra pochi giorni perché andiamo ad analizzare un po la situazione vedere se potrebbe aver senso per un possessore come me di desert x standard che fa fuori strada passare alla rally ma diciamo che sono chiacchiere da bar quindi fatemi sapere cosa ne pensate della desert x rally qua sotto ci diamo al prossimo video ciao da alex e della desert x base ciao